Buongiorno, mi chiamo Emanuela Tomassetti, sono contitolare di un'agenzia di assicurazioni. Siamo in sei persone dislocate su due uffici diversi e sono venuta a conoscenza del programma di gestione di posta elettronica Tueppi da parte di colleghi che già lo stavano utilizzando. Io lo uso da ormai diversi anni e ne sono veramente entusiasta, è un programma geniale. Si possono fare diverse cose con Tueppi, nel senso che la gestione della mole di mail che arrivano quotidianamente è talmente sempre più complessa che è un programma che semplifica le cose e è veramente ben accetto. Si possono assegnare degli incarichi, ossia si possono assegnare determinate mail a determinate persone con dei compiti da svolgere. Si possono scrivere delle chat a latere, delle mail, tra utenti, tra due o più utenti diversi in cui appunto si commentano le mail e vi si possono addirittura apporre degli allegati, eccetera. Si ha la visione subito chiara delle mail lette, non lette, archiviate, eccetera, grazie a colori che rendono il layout di Tueppi anche più gradevole. Insomma, le funzioni di questo programma sono veramente molteplici ed è quasi impossibile elencarle tutte parlarne a fondo così in poche parole. Io non posso far altro che sostenerlo e consigliare a chiunque abbia un ufficio con più persone che devono gestire le mail e sicuramente di acquistarlo.